A Lagos, capitale della Nigeria, una forte esplosione causata probabilmente dallo scoppio di un deposito di fuochi d'artificio ha provocato un incendio che si è rapidamente propagato in un'area densamente popolata. Una trentina finora i feriti, le squadre di soccorso hanno faticato non poco a raggiungere il luogo dell'incidente per via del traffico molto caotico nella zona denominata Yankara. Si tratta di una delle parti più antiche e densamente popolate della città nigeriana, che conta 15 milioni di abitanti. Grazie.